I due profili posizionati al contrario e in orizzontale emergono prepotentemente da un fondo rosso. I colori dei due amanti sono tutti, blu e azzurri fino alla gamba del celeste. Ci stagliano fortemente gli occhi gialli dei due che non si incontrano, ma si incontrano le bocche, nell'attimo prima di combaciare. L'attimo prima, la frazione è l'unio infinito. La tecnica è materia, in alcuni momenti grazie a rendere ancora più intenso il fatto. Bene, Mario? È un bellissimo impatto quasi a rovescio, a contrasto. E oltretutto si capisce quel rosso che passa attraverso le due labbra che ancora non si toccano, dà proprio la consapevolezza della passione, del sentimento, dell'energia. È proprio quella triscia di gaza di rosso che dà l'imprimato sull'amore. Bene, benissimo, benissimo. Grazie. 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 Grazie.